Per i lavoratori dell'ex Lametal di Oliero, il calvario è tutt'altro che vicino alla conclusione. La presentazione di un'istanza di fallimento al Tribunale di Verona, dove a sede la proprietà, si scontra con l'opposizione del gruppo Giona, pronto ad un braccio di ferro giudiziario che può spostare l'epilogo della vicenda anche di parecchi anni. Perché per voi sarebbe più conveniente il fallimento, che venisse dichiarato il fallimento del gruppo? Beh, per quanto ci riguarda, probabilmente abbiamo l'opzione di entrare in mobilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire avere più possibilità nel mercato di lavoro attuale, perché l'imprenditore si sgravia di certe pesantezze che sono dovute ai contributi. Loro i dipendenti non si sono mai arresi, un presidio permanente fuori dallo stabilimento, oggi una presenza anche fuori dalla sede di Veneto Lavoro, a Mestre, dove la proprietà ha incontrato tra gli altri sindacati e l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzà. Perché non si sblocca la cassa integrazione per voi? Perché appunto ci sono tanti passaggi e la burocrazia è indeterminata, una cosa che in Italia purtroppo ha portato a questo tipo di situazione. Di sicuro per ora c'è solo che a Oliero si chiude.